weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiu derone daie weh bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiu der e oggi ragazzi porca di quella porca avrei un miliardo di cose da dirvi sulla nuova season 8 ma voglio darvi informazioni piano piano nel video di oggi ragazzi parleremo delle nuove skin ancora non rivelate e che presto arriveranno nel nostro pass nel nostro shop quotidiano vedremo anche ragazzi tre nuove armi in arrivo per questa season e ovviamente una prima carrellata di leaks di tutte le cose che ci sono in questa stagione porca miseria ragazzi siamo arrivati alla season numero 8 intanto voglio ringraziare tutti di cuore per utilizzare il mio codice creator xiu derone e quindi supportarmi quando scioppazzate violentemente vi ricordo anche di iscrivervi in tantissimi al canale soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui video e sulle live ma prima ragazzi la stagione 8 domanda c'è per forza ragazzi domandina molto molto easy ragazzi quale skin preferisci tra le due sono le due skin che ci sono state date con il pass battaglia abbiamo cuore nero e abbiamo ibrido entrambe hanno un sacco di stili selezionabili la vostra preferita qual è la mia sono molto indeciso però cuore nero mi piace un botto mi piace tantissimo anche la fase finale di ibrido ma cuore nero è veramente veramente tanta roba commentate mi raccomando qui sotto con la vostra preferita tra le due ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare di questa season 8 mappa da paura ragazzi tutta la parte alta della mappa nella destra è stata totalmente modificata quindi completamente ribaltata la cosa purtroppo allora innanzitutto gg abbiamo un vulcano che è una cosa troppo spettacolare è una figata il vulcano la lava tutta la giungla intorno la parte degli azzechi e ragazzi non possiamo che dire anche gg per la spiaggia la nave dei pirati e il porto a me personalmente i pirati piacciono tantissimo quindi il tema di questa season a me piace davvero tanto molto di più della season 7 con l'arrivo però ragazzi del vulcano diciamo addio a bosco blaterante non lo vedremo mai più mai dire mai ma molto probabilmente non lo vedremo più non vedremo più neanche passatempi pomposi che non è che sia durata proprio tanto come city ha sostituito i vecchi acri anarchici e è già stata eliminata addio anche al motel sostituito dal the block hanno spostato un po più centrale il quartiere dove si possono appunto giocare le mappe degli utenti e addio ai container mi dispiace veramente tanto ragazzi un grande saluto e comunque un ringraziamento ad epic games per averli creati e per averci fatto giocare in questi ambienti molto molto interessanti ma parliamo invece di questa immagine spettacolare ragazzi l'immagine ufficiale della stagione 8 di fortnite ce ne saranno di tutti i colori ragazzi abbiamo sullo sfondo le navi pirata il vulcano in eruzione attenzione attenzione secondo me in questa season il vulcano ci farà dei bei scherzetti e abbiamo anche ragazzi dall'altra parte i maia o comunque gli azzechi insomma ragazzi due culture veramente interessantissime la cosa molto particolare di questa immagine le due cose molto particolare molto particolare di questa immagine sono porca miseria le armi che vengono disegnate vi ho cerchiato ragazzi quest'arma meravigliosa che non è altro che un arco lo vediamo tutti arco che di solito nei videogiochi dove si spara è un'arma molto OP perché può colpire da una lunga distanza e soprattutto non possono capire da dove arriva il colpo in quanto non fa rumore veramente veramente devastante arco che ancora non è stato proposto e non è neanche nei codici di gioco dei pacchetti che sono stati scaricati con l'update altra arma ragazzi ovviamente la tiene in mano il black heart ed è una pistola in pieno stile pirata sono convinto ragazzi che entrambe queste armi le vedremo in game nelle prossime settimane sicuramente happy games non le ha inserite per caso e di certo avremo modo di poterle giocare quello invece che è stato inserito ragazzi è questa un nuovo fucile che quasi certamente andrà a sostituire il fucile da fanteria quindi quella cagata che hanno inserito verso il termine della season 7 sappiamo che questo fucile sarà in rarità epica e leggendaria e lo troviamo anche ragazzi proprio nei codici sorgenti del gioco sappiamo che si chiamerà battle rifle quindi un fucile da battaglia penso che sia un'arma automatica quindi non non è un fucile a pompa dovrebbe essere proprio tipo un mitra dovrebbe essere e non capisco se è silenziato oppure no perché quella roba lì davanti a me sembra davvero un silenziatore insomma ragazzi nuova arma che prestissimo probabilmente già dal prossimo update sarà disponibile e quindi giocabile ma andiamo avanti ragazzi e parliamo un attimo anche delle skin che sono state trovate nei file e che presto vedremo in questi giorni prima del prossimo update che sarà l'otto punto uno ok questa ragazzi è la versione femminile del bandoliere si chiama bandolero una roba del genere non ricordo i nomi correttamente però l'avevamo già intuito ieri mattina mentre aspettavamo il vero inizio della season molto molto bella ragazzi ci sta assolutamente tantissimo come skin molto interessante e dopo vi dico perché se rimane un po' di tempo anche la skin del contadino un classico ragazzi un contadinozio proprio easy vi ricordo ragazzi che noi già abbiamo qualcosa a tema dei contadini con le skin degli spaventapasseri che sono uscite ad halloween tenete a mente questo ragazzi versione femminile anche della skin del contadino entrambe davvero molto interessanti e per terminare un'altra skin molto particolare perché ragazzi qua io ve lo dico si sta già ipotizzando al tema della season 9 assurdo eppure non sembrano minchiate questa skin ragazzi che non c'entra assolutamente niente con la il tema la trama di questa season così come non c'entra niente la skin del pass battaglia l'ultima quella di livello 100 con i pirati e i maya potrebbero essere già degli spoiler su quello che epi games ha intenzione di fare nella season 9 mi limito solo a farvi vedere questa immagine ragazzi probabilmente non notate niente di strano ma voglio farvi vedere aprire gli occhi in giro per la mappa alcune case isolate hanno cominciato ad avere delle barricate fatte con le poltrone e i divani avete un po fatto il nesso avete capito non avete capito contadini la skin di primaverde un po strana le case un po barricate ragazzi si parla degli zombie io qua ragazzi mi fermo io qua ragazzi mi fermo non voglio dirvi altro perché sono troppo presto queste supposizioni ma spero comunque che questo primo video della season 8 vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao